salve a tutti ragazzi sono z willix rockstar games ha pubblicato una serie di regole per la community di gta online ora vi dico sinceramente che il video non l'avrei fatto se non per una regola tra queste regole che onestamente mi delude abbastanza perché rockstar ha aggiunto una regola che rovina completamente il senso di quello che dovrebbe essere grand theft auto un gioco di criminali dove ci si ammazza di continuo praticamente no meglio gta online ok perché vabbè gta 5 un'altra cosa e va bene chiaramente non vi starò a parlare di tutte queste regole se volete leggerle voi stessi vi lascerò il link nella descrizione in ogni caso se andate verso metà pagina rockstar ha aggiunto questo punto tra i comportamenti da non intraprendere per suppongo non farsi bannare però sia solo una cosa di antisportività perché sinceramente se il secondo punto porterà al bundle account sarebbe veramente scandaloso in ogni caso ecco cosa un giocatore non dovrebbe fare barare ovvero usare hack exploit oppure tipo glitch della god mod e su questo sono personalmente sono d'accordo perché ad esempio usare il glitch dell'invincibilità o peggio mod su pc per rompere il cazzo agli altri giocatori è fastidioso e comunque lo fai anche in una maniera tale da essere costretto praticamente a rompere il gioco senza l'utilizzo di nessuna abilità perché comunque per avere invincibilità o mods devi fare un qualcosa di standard che non è chiaramente incluso nel gioco e soprattutto rovina completamente quello che dovrebbe essere la competizione del gioco per me questa è una regola giusta e va bene così anzi gg per rockstar finalmente spero che comunque si prendano diciamo provvedimenti anche nei confronti di chi abusa del glitch della god mod quello che invece mi dà fastidio è il secondo punto e questa ragazzi è la morte del try harding anzi proprio dello spirito di ciò che dovrebbe essere grand theft auto ovvero griefing leggiamo un po questo punto disturbare intenzionalmente altri giocatori o interferire con la loro esperienza e progresso nel gioco con metodi non previsti ad esempio uccidendo a rientro fare stream sniping guidare nel senso errato durante una gara a puro scopo di disturbarla per lo stream sniping in un certo senso ci può stare se uno va su twitch e rompe le palle chi sta streamando ci sta però dall'altra vi dico che senso ha a farlo perché comunque uno può benissimo partecipare dallo streamer non c'è bisogno di vedere la sua live perché comunque i giocatori nella mappa compaiono e quando uno va in pubblica dovrebbe comunque accettare il gioco così com'è e dovrebbe accettare il fatto che magari se quello streamer è famoso poi un altro lo conosce e gli va a rompere il cazzo comunque sei in pubblica e sai a cosa stai andando incontro quindi tecnicamente stream sniping dovrebbe essere solo quando tipicamente lo streamer si mette invisibile al radar usa organizzazione fantasma e chi lo uccide di continuo riesce a farlo perché appunto sta guardando la sua diretta però perché io devo essere bannato se mi metto a guidare al contrario in una gara e sbatto addosso un giocatore cioè io faccio una gara la cerco ok gioco contro altri giocatori in questa gara voglio andare voglio andare al contrario voglio fare il bastardo no andare addosso a un giocatore cos'è gran turismo 7 che mi danno la penalità se tocco qualcuno è chiaro che io quando voglio giocare giochi di corse voglio la sportività ok ma i giochi di corse seri no grand theft auto che le marce sono automatiche le auto sono come treni cioè se voglio gareggiare seriamente in un mi metto a gareggiare seriamente su grand theft auto mi metto a gareggiare seriamente su forza motorsport su gran turismo 7 e poi vi ripeto se uno lo fa in quei giochi non è che riceve il ban riceve una penalità e ripeto penalità non ban dell'account se uno su gran turismo 7 si mette a guidare al contrario o comunque si mette a far sbandare gli altri piloti non è che vi bannano vi danno una sportività bassa in gioco ve la riducono qui ragazzi su gta su grand theft auto dove le macchine vanno come i treni dove non esistono marce manuali ma ci sono solo marce automatiche un gioco in cui sei un criminale spudorato e uno tecnicamente dovrebbe fare il cazzo che vuole nel cazzeggio da oggi se guida al contrario una gara rischi di avere l'account bannato cioè ora ditemi voi non lo fanno quelli di grand turismo 7 non lo fa la iei con formula 1 2023 la rockstar su grand theft auto si quindi se uno fa una gara gta dove si può sparare quando giochi a queste gare se ammazza il mio avversario sparandolo o che ne so faccio un'altra gara lo faccio sbandare fuori strada cioè devo 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 devono bannarmi i gta ragazzi su grand theft auto boh cioè non lo so ok o peggio ancora uccidere i giocatori tramite lo spawn kill cioè letteralmente ragazzi nei campionati di esports come la code league quando c'è un team che domina un altro team nella modalità controllo quei giocatori si apprestano a effettuare spawn killing cioè letteralmente una tecnica di gioco utilizzata dai giocatori di call of duty chiaramente consentita dall'activision perché se no poi come cazzo giochi e controllo che devi anche stare a pensare o devo farli uscire dallo spawn perché se no poi mi bannano l'account o che ne so mi squalificano dalla competizione cioè è letteralmente una tecnica utilizzata dai giocatori di call of duty nei campionati dove vincono soldi dove letteralmente i giocatori ci campano con questa roba cioè è pazzesco perché se te vieni spawn trappato vuol dire che stai giocando malissimo quella partita ok ora uno rischia il ban perché sta giocando regolarmente in modo legale utilizzando le sue abilità la sua conoscenza in gioco come ad esempio sapere dove effettivamente uno potrebbe spawnare dopo averlo killato cioè roba da matti ragazzi ora non si può neanche più tryhardare e vi dirò di più a me i tryharder danno fastidio sono il primo a provare fastidio quando un tryharder mi uccide di continuo perché non so tryhardare ok non so tryhardare sono scarso a giocare pvp su gta online lo dico subito infatti evito spesso le pubbliche apposta per questo se quel tryharder comunque mi rompe il culo non mi dà il tempo di scappare dallo spawn mi umilia non è che mi metta a segnalarlo ragazzi lo manda a fanculo sì quello che lo faccio metto a bestemmiare ok ci sta però l'accetto l'accetto la cosa come si dovrebbe comunque fare perché anche se comunque sto perdendo di continuo sto perdendo di continuo perché c'è un giocatore più bravo di me più esperto con maggiori conoscenze del gioco e so che fa parte del gioco e so che lo sta facendo giocando normalmente al gioco ed è totalmente differente attenzione da uno che usa la god mod perché il primo usa le sue abilità in gioco e usa quello che gioco gli permette senza stare a fare metodi o step per buggarsi robe del genere il secondo invece usa un trucco che normalmente non si può usare dove è costretto effettivamente a buggare il gioco tramite metodi e step perché griffare tryhardare sempre senza utilizzo di trucchi o glitch è una cosa che già fa parte del gioco ragazzi cioè è come bannare chi usa lo slide cancel su call of duty è come bannare chi ha un senso di gioco di call of duty talmente pazzesco da riuscire a capire dove spawna il giocatore che ha ucciso due secondi fa è la stessa identica cosa quindi praticamente non si può più giocare pvp a gta perché sennò la rockstar ti banna apparentemente invece chi distrugge in una pubblica 4 milioni ad esempio 4 milioni di dollari di merce di un giocatore che sta vendendo questa merce è completamente legale almeno da quello che ho sentito poi non so se sia vero o meno ma a quanto pare si cioè insomma il cargo griffing e per quanto io reputi giusta questa cosa seppur tossica perché distrugge la merce degli altri comunque fa parte del gioco è un po un controsenso cioè permettere questo sì però sponchillare o guidare al contrario no mi parlano di codice di onore mi parlano di positività e rispetto però intanto il canone orbitale come anche distruggere la merce sono due funzionalità di gioco legali e non fraintendetemi vanno benissimo che sono legali gta non è the sims non è un gioco di barbie quindi va bene così non mi sta bene invece che tryhardare o guidare al contrario ti fanno rischiare il ban e poi certe cose peggiori sono comunque ancora consentite è questo che mi delude c'è un'ipocrisia veramente assurda in questa legge del griffing gta è sempre stato un gioco con sessioni pubbliche tossiche piene di griffers ma è il gioco ragazzi è il gioco e il bello è che l'hanno fatto loro così il gioco cioè non l'ho fatto io l'ha fatto da rockstar games per me questa regola dell'anti griffing a tal punto da rischiare il ban su un gioco di criminale dove letteralmente ammazziamo centinaia di npc dove letteralmente i nostri personaggi sono degli assassini psicopatici è qualcosa di davvero fuori di testa se non siete d'accordo con me chiaramente lo accetto però vorrei leggere le vostre opinioni sul perché effettivamente invece è giusto bannare chi tryharda su gta online fatemelo sapere ovviamente con il giusto rispetto e sarò curioso di leggere la vostra opinione però io non sono per niente d'accordo poi per quanto riguarda il resto delle regole come chi usa mod per ammazzare persone chi usa il glitch della god mod chi fa delle moleste verbali o roba simile è giusto che uno rischia il ban se uno tira troppo la corda su quello sono d'accordissimo e non ho niente da dire tutte le regole per me nella pagina sono giuste fuorché quella del griffing che c'è una cosa che fa parte del gioco poi c'è anche la modalità passiva quindi se uno non vuole fastidi si mette passiva e basta anziché segnalare poi è un'altra cosa è chiaro che quando uno va in passiva e muore lo stesso perché quell'altro usa un glitch per riuscire ad ammazzare i giocatori che sono in passiva allora anche lì sì è giusto bannare chi utilizza un glitch per ad esempio ammazzare chi sta in passiva quello è certo uno vi ammazza di continuo voi mettete in passiva poi quello non vi dà più fastidio perché non riesce più perché voi siete in passiva finita lì cioè non c'è bisogno di bannare chi ha ammazzato di continuo quel giocatore che poi ha deciso di andare in passiva la passiva è stata fatta apposta boh cioè poi per il resto è giusto il link tutte queste regole lo troverete qua sotto nella descrizione fatemi sapere la vostra commenti questa settimana di rockstar games ha aggiunto le nuove gare multiveicolo noti ignoti e ignoti ignoti si chiamano proprio così per avviare queste gare dovete andare su gare istante cercare queste tipologie scorrendo le varie gare praticamente queste gare potremmo imbatterci in dei checkpoint con il simbolo del punto interrogativo che ci darà essenzialmente un veicolo a caso scelto dal gioco ed essenzialmente funzionano così queste gare nella prima mi sembra in noti ignoti tipo ci stanno dei veicoli comunque già predeterminati mentre nella gara multiveicolo ignoti ignoti i veicoli che il gioco vi può dare ad ogni checkpoint con il punto interrogativo sono un po più casuale rispetto alla prima tipologia di gare diciamo che questa è essenzialmente la novità della settimana e queste gare avranno doppio guadagnolo di soldi di rp per tutta la settimana riguardo il resto dei bonus guadagno abbiamo triplo guadagno tutte le missioni ricerca del bunker per avviarle dovete chiamare l'agente 14 e quindi fare appunto una di queste missioni dedicate alla ricerca del bunker poi abbiamo doppio guadagno sulle missioni vendita della merce del bunker e doppio guadagno sulle missioni del contratto di ammunition sempre del bunker per avviare le missioni contratto di ammunition dovete avvicinarvi al downloader del vostro bunker e premere la freccetta direzionale destra completando tre missioni ricerca del bunker guadagnerete 100.000 dollari bonus della sfida settimanale più questa felpa mentre completando una missione per riempire la barra scorte sbloccherete questa maglietta infine abbiamo doppio guadagno di dollari e quadruplo guadagno di rp su tutte le missioni contatto di gerald riguardo ai colpi dello sfascia carrozze nemmeno questa settimana abbiamo un'auto ottenibile come auto personale a quanto pare rockstar si è completamente dimenticata che qualche settimana fa ha aggiunto questa funzionalità boh vabbè comunque abbiamo la brigand che sarebbe il colpo della nave la everon che sarebbe il colpo della prigione ed infine la tygon che sarebbe il colpo del arena war al casino potete vincere la windsor drop all'autore ad uno potete vincere la club dovete arrivare a meno quarti nella gara della serie di gare dell'autore ad uno per tre giorni di fila all'autore ad uno potete testare la comet s2 la greenwood la cita classic la s95 di ao da simeon potete testare la xa 21 la torero la trust la tulip e la keburek e infine alla luxury potete osservare sia la dominator gt che la viva night prova a tempo della settimana in questi punti della mappa oggi il furgone delle armi si trova qui presenterà queste armi per tutta la settimana infine gli scotti della settimana sono 50 per cento di sconto sull'equipaggiamento ballistico 40 per cento di sconto sulla tampa armata sulla torero sul dune fav sul rimorchio antiaereo ed infine 30 per cento di sconto su tutti i bunker come anche su le loro modifiche sui loro potenziamenti sulla cita classic sulla comet s2 e sulla greenwood quindi niente ragazzi da z quelli che si è tutto noi ci sentiamo al prossimo video